Questo è un incontro organizzato dall'Associazione Centro per la Pace di Forlì, di cui dopo vi spiegherò brevemente un po' di cose, insieme all'Associazione Darsi Pace. Noi veniamo da un altro incontro fatto come Centro per la Pace sul tema che proponiamo questa sera, che è Einstein, la fisica e la pace. L'8 di aprile avevamo fatto già un'altra iniziativa con un saggista che c'era venuto a parlare sempre di Albert Einstein, ma facendo il focus di più proprio sugli scritti e sulle sue interventi sul tema del pacifismo. Siccome Albert Einstein era una personalità che non si può, come dire, rinchiudere in un recinto solo, abbiamo pensato insieme anche agli stimoli ricevuti appunto dagli amici di Darsi Pace, di vedere sempre il tema della pace, ma visto da un'altra angolazione. Per questa angolazione addirittura ci siamo serviti della collaborazione di un astrofisico, quindi potete capire che abbiamo allargato bene bene il ventaglio della nostra visione, è Marco Castellari dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è quindi l'istituto italiano che segue appunto questo argomento. e con lui, a cui dopo arriverà la parola tramite Antonietta di Darsi Pace, approfondiremo questo tema. Vi presento l'associazione Centro per la Pace e dopo lascio la parola ad Antonietta Valentini dell'associazione Darsi Pace, in modo che ci presentiamo un po' tutti. Condividerei con voi questa... Noi, allora io mi chiamo Raffaele Barbiero, sta collaborando con me, anche se non la vedete, Silvia Cabras, per realizzare questa iniziativa. L'associazione Centro per la Pace è un'associazione di persone e di associazioni, questi tre obiettivi che voi vedete apparire in schermo. La consapevolezza sui diritti umani, che è una consapevolezza che credo meritebbe una maggiore attenzione. Noi facciamo riferimento ovviamente alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'ONU nel 1948 e portata avanti, se qualcuno la conosce di più, da Amnesty International. La consapevolezza sui diritti umani per noi significa anche che i diritti umani dovrebbero essere un elemento dirimente su alcune questioni. Faccio un esempio su tutte, per esempio sulle questioni legate al commercio e alla vendita delle armi. Non lo sto facendo a caso ovviamente questo esempio. Noi come Italia abbiamo venduto delle armi a quello che adesso abbiamo scoperto essere un dittatore di fatto, cioè Putin, col quale purtroppo c'è anche questa guerra tragica in corso, ma abbiamo continuato a vendere armi a un altro dittatore di fatto, anzi dittatore di diritto anche perché ha preso il potere con un colpo di Stato al Sisi in Egitto, nonostante il caso di Giulio Reggeni, il caso di Patrizza, che è non solo questi due casi che ci coinvolgono più direttamente come Italia. e quindi abbiamo venduto armi e stiamo vendendo armi a Erdogan che ha fatto in Turchia, che nel 2019 ha invaso la Siria e sta uccidendo i kurdi anche recentemente, sono divampati nuovamente i conflitti fra l'esercito turco e i kurdi che risiedono in Siria. Abbiamo venduto armi e stiamo vendendo armi addirittura anche alla Birmania, colpo di Stato del 1 febbraio 2021, ma come si dice, se le armi sono trattate come una merce qualsiasi, non rientrano neanche nella categoria della politica estera, è chiaro che poi dopo non dobbiamo piangere sul latte versato. Per questo crediamo che invece il tema dei diritti umani sarebbe almeno su alcune questioni un tema di rimente. Non dico su tutte perché sennò non dovremmo parlare con un quarto di mondo o mezzo mondo, vedi Cina, però almeno su alcune questioni credo sarebbe necessario introdurre questo elemento nella politica estera dei nostri governanti. La seconda questione che noi cerchiamo di portare avanti nel nostro territorio è la gestione dei conflitti con metodologie non violente. Anche qui si apre un discorso molto importante. Cos'è la non violenza, come funziona la non violenza, cerchiamo di gestire con i metodi non violenza portati avanti e ideati da Gandhi, ma non solo da lui, seguiti da altri, i conflitti. Però per fare questo servono risorse, persone e investimenti, cose che non si stanno facendo e che non si sono fatte in Italia. Per cui, mentre spendiamo dai 25 ai 38 miliardi di euro all'anno per la difesa, di fatto per la non violenza non si sta spendendo neanche un euro. E poi dopo si chiede al mondo della pace o ai non violenti come mai non si risolvono i problemi. Questo non significa che con la non violenza le cose si risolvano, ma se non ci proviamo, se non investiamo risorse, se non investiamo persone, mai, dico mai, arriveremo a vedere se quello strumento può servire a risolvere il conflitto, può almeno servire, come fino adesso ha funzionato quando è stato applicato, a ridurre il tasso di violenza nel mondo. L'ultima questione che noi seguiamo è la società multiculturale e multietica, pensando che solo in un mondo, siamo già in un mondo interconnesso, con la globalizzazione, con tutto. Noi pensiamo che possiamo evolvere e salvarci solo se sappiamo lavorare insieme. E con questo chiudo, perché anche questo è un argomento che richiederebbe tantissimo tempo e anche questo è un argomento spinoso che stava sulle pagine dei giornali fino a due anni fa, fino a prima della pandemia, tutti i giorni in modo negativo. Dopo c'è stata la pandemia, adesso c'è la guerra, vorremmo noi sperare di ricondurre queste tre cose che vi abbiamo detto in modo più positivo anche nel dibattito politico e nel dibattito odierno. Cedo subito la parola ad Antonietta Valentini e ringrazio Marco della sua presenza, della sua disponibilità e darsi pace. Grazie Raffaele, io così prendo il testimone da te collegandomi anche in parte a quello che hai già detto, l'importanza di saper lavorare assieme. Ecco, noi come presenza al Centro Pace, come associazione socia, Darsi Pace, stiamo cercando di introdurre alcuni dei temi che a noi sono cari dentro appunto il lavoro del centro. Magari a volte può sembrare che quello che diciamo sia un po' lontano, magari anche l'argomento di oggi, parlare di fisica, parlare di scienza, quando in realtà i temi urgenti sembrano essere altri. Però io spero che dopo questa chiacchierata con Marco Castellani si capirà che in realtà tutti questi argomenti sono veramente molto legati tra loro. E quindi per prima cosa io vi presento, anzi saluto, Marco Castellani. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Lo presento ancora brevemente, anche se il suo curriculum sarebbe molto molto più ricco. Marco è un astrofisico presso l'Osservatorio Astronomico di Roma che fa parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, fa parte del team scientifico del satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, ha al suo attivo più di 90 pubblicazioni scientifiche di cui la maggioranza ha rilevanza internazionale. Inoltre è anche un bravissimo scrittore e si occupa, scrive e cura blog di divulgazione scientifica e non solo. Ed è tra i fondatori di un progetto che si chiama Altra Scienza nato all'interno del movimento Darsi Pace. Ecco, io adesso Marco ti darò ovviamente del tu perché noi ci conosciamo già da alcuni anni proprio attraverso la comune partecipazione appunto ai gruppi Darsi Pace. E quindi partiamo subito dal nostro titolo Einstein, la fisica e la pace. Quindi dopo Einstein noi abbiamo visto che l'impegno per la pace degli scienziati è continuato. Einstein fu forse il primo che a livello così globale fece un'azione culturale e politica fortissima contro la guerra e appunto a favore di risoluzioni pacifiche di qualsiasi tipo di conflitto. Ecco, questo impegno dopo di lui è continuato proprio da parte degli scienziati. E a questo proposito io ho trovato un libro interessante che si intitola proprio così Fisica per la pace tra scienza e impegno civile. Un libro di alcuni anni fa scritto da Pietro Greco uno scrittore e giornalista scientifico scomparso fra l'altro da poco. Ecco, lui scrive che ci sono oggi molte realtà in cui la fisica questa parte della scienza sembra essere un vero e proprio ponte di pace o almeno diciamo noi adesso lo è stata fino almeno allo scoppio di questa guerra. E cita alcuni esempi per esempio l'unione degli scienziati per il disarmo la stessa nascita del CERN di Ginevra poi un'esperienza in Giordania un acceleratore di particelle in cui lavorano ad uno stesso progetto comune israeliani, palestinesi, iraniani e altri scienziati di altre nazionalità magari spesso geograficamente o politicamente comunque antagoniste. e quindi da Einstein in poi questo legame tra scienza e pace è continuato e tu stesso mi dicevi che lo scorso anno hai partecipato in Abruzzo a un convegno internazionale proprio intitolato così la scienza per la pace e quindi la prima domanda che ti faccio è ma è vero che c'è questa propensione proprio degli scienziati per la cooperazione e quindi in definitiva per la pace? Grazie Antonietta grazie intanto dell'invito sono contento di essere qui anche con una vecchia amica se possiamo dire così insomma e anche compagna di percorso e conoscere questo questo centro per la pace insomma è sempre una cosa molto interessante e dunque venendo alla tua domanda sì è giusto di fatto gli scienziati in qualche modo hanno continuato questa pista aperta da Einstein e l'hanno portata a livelli insomma anche più anche più elevati anche più fattuali questo in realtà possiamo anche sfatare un mito nel senso che non è che gli scienziati siano più bravi più virtuosi di persone che seguono altre occupazioni anzi a volte potrebbe anche essere il contrario insomma pensiamo alla bomba atomica e tutta la scienza la tecnica purtroppo deviate verso obiettivi belligeranti e in un certo senso è la realtà diciamo dello sviluppo delle cose che va verso questa direzione facciamo un esempio partiamo da Galileo facciamo un esempio più abbastanza concreto la scienza che faceva Galileo io parlo sostanzialmente della scienza del cielo però si possono fare analoghe discorsi per altre discipline ovviamente parlo un po' di quello che conosco diciamo però Galileo ha fatto una serie di scoperte fondamentali con un piccolo telescopio che aveva avuto l'idea di puntare verso il cielo perché non era neanche un'idea tanto diciamo scontata è un quadernino delle osservazioni e la moltissima curiosità umiltà e desiderio di capire questo sì ma sostanzialmente ha fatto fare un grande balzo in avanti alla scienza alla conoscenza diciamo dell'epoca possiamo dire sostanzialmente da solo seguendo le sue idee le sue intuizioni consideriamoci facciamo un saltino avanti di qualche secolo alcuni secoli siamo qui noi scienziati che seguiamo il medolo scientifico cioè seguiamo l'impostazione di Galileo pari pari ma per guardare il cielo per avere delle informazioni non basta più una persona sola diciamo e qui veniamo al punto della relazione della pace perché per un grande progetto tu hai citato Valentina hai citato il caso di Gaia Antonietta e quindi cioè questo grande progetto di analisi di censimento sostanzialmente delle stelle della Via Lattea perché funzioni un progetto di questo tipo ci vogliono all'opera decine centinaia di persone di fatto Gaia è un progetto trasnazionale quindi per perché abbia successo cioè perché continui a portare dati a terra che vengono analizzati ci vogliono centinaia di persone in rete diciamo in connessione perché la complessità è tale che sfugge alla persona singola per cui in un certo senso qui vengo anche alla domanda è necessario che le persone diciamo stabiliscano queste connessioni e le facciano funzionare perché poi si possa ulteriormente progredire quindi in un certo senso è un po' è un po' l'universo che ce lo chiede se vogliamo metterla così è la necessità di andare avanti che insomma si potrebbe dire se non andiamo insieme non andiamo da nessuna parte non perché abbiamo detto che siamo più buoni e vogliamo andare insieme ma perché ce lo chiede veramente il progresso scientifico la conoscenza ormai non è più possibile che avvenga in piccoli gruppi se vogliamo insomma stare sulla frontiera quindi è un po' ecco un po' un gioco forza tanto è vero che in questo periodo questa cosa ne risente molto insomma no? se ci sono purtroppo all'ordine del giorno delle missioni anche molto importanti penso ExoMars una missione che doveva portare una sonda su Marte una delle tante insomma ma molto importante che per adesso è stata sospesa diciamo è in sospensione perché una parte importante era l'agenzia russa Roscosmos l'agenzia insomma non c'è possibilità di lavorare non c'è possibilità non c'è volontà insomma su questo momento di lavorare con l'agenzia russa in questo momento e quindi il progetto è un progetto di miliardi e di centinaia di persone che lo seguono è fermo in questo momento altri progetti come Euclide che è un grandissimo telescopio spaziale che doveva essere lanciato ormai a breve stanno subendo dei ritardi per cui questo processo diciamo di conoscenza per rete di persone sta un po' insomma sta risentendo molto di questo di questo clima ma questo ci conferma del fatto che se non c'è una relazione ampia la scienza non può non può andare avanti insomma sì la scienza non può andare avanti e stiamo vedendo che poi anche tutti gli altri settori man mano si stanno rendendo conto di come questo saper lavorare assieme di cui parlavamo prima diventa sempre più indispensabile ecco torniamo adesso Marco al titolo del nostro incontro e cioè la fisica e la pace e qui la prima domanda che mi viene è ma di cosa parliamo quando parliamo di fisica perché almeno da Einstein in poi noi sappiamo che c'è una nuova fisica nuova perché comunque noi la distinguiamo da una vecchia diciamo così che per intenderci sarebbe quella newtoniana cioè quella che noi tutti abbiamo studiato sui libri di scuola ecco quindi per andare avanti nel nostro discorso io vorrei chiederti una domanda difficilissima ovviamente però provare a dirci qualcosa di questa differenza in cosa consiste questa nuova fisica almeno darsi qualche qualche spunto qualche intuizione la domanda è cattivissima perché parlare della nuova fisica in pochi minuti sì sì abbiamo insomma convenuto che si doveva se ne doveva parlare ma è una domanda insomma molto ardita però io partirei dal fatto da un fatto più ampio nel senso perché a noi ci importa della fisica nel senso che ce ne frega diciamo così un po' più direttamente e poi vengo al punto perché secondo me va capito che la fisica parla molto più del soggetto che conosce che in realtà dell'oggetto che sta conoscendo in questo quindi è una scienza umana in tutti i sensi quindi almeno dal mio punto di vista essendo che parla della donna e dell'uomo allora sì che è interessante parlasse di oggetti esterni a noi e basta come si chiede si credeva fino a un certo punto ma l'interesse insomma sarebbe anche relativo diciamoci la verità ma siccome appunto parla dell'uomo la fisica evolve quando evolve il soggetto conoscente quando noi come uomini scusate uomini donne evolviamo diciamo abbiamo raffiniamo il nostro pensiero diciamo che la fisica cambia con noi i modelli di mondo diventano più complicati fateci caso insomma partiamo da si partiva dall'idea di essere sopra il dorso di una grande tartaruga si partiva dal fatto di essere in una terra piatta un cielo immodificabile siamo arrivati a grandi scoppi multiversi cose di ogni di ogni tipo per i quali anche diciamo la fantascienza sembra anche rimanere indietro ecco l'interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica cioè generazione di universi ogni istante insomma ce n'è per far impallidire a un qualsiasi autore di fantascienza quindi in questo quadro il passaggio dalla fisica classica a quella moderna è semplicemente il corrispettivo secondo me della transizione avvenuta già in letteratura in poesia nella musica che riguarda la complessità del secolo scorso il travaglio anche del secolo scorso anche la contraddittorietà del secolo scorso che è stato sfiancato da delle guerre appunto senza precedenti però con questo travaglio molto molto forte che poi tra l'altro anche in Darsi Pace si studia molto bene questo travaglio culturale non ha potuto lasciare fuori la scienza non ha potuto lasciare fuori queste scienze che si chiamano dure come la fisica in realtà che ci parlano dell'uomo e niente di nient'altro in fondo e quindi abbiamo davanti questo cambio di paradigma diciamo per cui i termini che usiamo come materia spazio stato solido eccetera cambiano significato cioè assumono un significato più complesso più articolato per esempio facciamo qualche esempio per non rimanere nel vago in fisica classica si indica per esempio materia abbiamo detto si indica genericamente qualsiasi oggetto che abbia massa e occupi uno spazio quindi una cosa che sta lì riempie lo spazio lo spazio è definito come una specie di teatro dove avvengono le cose e questo teatro non si modifica non interagisce questa definizione ci è andata bene per molto tempo aggiungiamo anche l'elemento tempo appunto cioè il tempo è visto come una cosa che scorre costante uguali per tutti senza sorprese diciamo e questa cosa fino a Einstein che ha mischiato tutto facendo mettere insieme il tempo la massa e la gravità insomma fino a Einstein è andata sostanzialmente bene adesso siamo in una rivoluzione perché è tutto esploso diciamo per esempio la materia non è qualcosa che riempie lo spazio perché se noi andiamo a vedere bene nel dettaglio andiamo a vedere gli elettroi gli atomi che sono i costituenti della materia beh ci accorgiamo che un atomo è praticamente vuoto cioè fra abbiamo noi il famoso modello diciamo planetario che stiamo in testa con il nucleo e l'elettrone che gli gira intorno questo è appunto è un modello non è la realtà beh comunque anche stanno a questo modello scopriamo che è vuoto perché il rapporto fra il nucleo e l'elettrone che gli gira intorno ha dimensione tida una a dieci a diecimila circa cioè praticamente se sono pianeti che girano intorno al nucleo questo pianeta è lontanissimo quindi la materia in realtà è già qualcosa che non è un pieno è un enel più che altro nel nuovo linguaggio è un'energia organizzata poi sappiamo che queste particelle si chiamano fermioni queste particelle di materia e riempiono lo spazio in qualche modo semplicemente senza farla molto complicata perché hanno delle caratteristiche tali che non si possono impaccare più una sull'altra insomma non sopportano di stare di compenetrarsi fino a un certo punto e quindi si estendono nello spazio fossero di un'altra categoria che si chiamano bosoni ma non vado molto sul tecnico non vi preoccupate ce ne vorrebbero essere a piacimento per esempio il fotone il quanto di luce è un bosone ne puoi accumulare quanti vuoi la materia la devi tenere insomma in qualche modo distante le cose si complicano quando ci capiamo come questa nuova materia lo spazio e il tempo interagiscono lo spazio questa nuova materia questa materia insomma nell'universo ha la simpatica prerogativa di piegare lo spazio per esempio cioè questa cosa della fisica classica è un controsenso totale cioè lo spazio non si piega perché ci metto se io metto una mela in un certo punto intorno lo spazio è curvo cioè in minima parte per carità insomma però un raggio di luce farebbe una piccola deviazione per cui questo nella mela ovviamente è immisurabile intorno a un pianeta grande si misura questa cosa quindi al di là dell'effetto è importante capire a livello forse filosofico che ci sta dicendo che una delle nostre una delle tante nostre cognizioni di buon senso è sbagliata cioè lo spazio non è un teatro inerte in cui accadono le cose lo spazio reagisce a quello che accade si mischia con quello che accade il contenitore il contenuto parlano si dialogano lo spazio si muove si apre si chiude si restringe a seconda dell'oggetto che c'è se ci mette addirittura un buco nero lo spazio si chiude su se stesso e non esce niente da lì quindi le cose che abbiamo in testa dobbiamo capire che funzionano nel mondo comune e le abbiamo in testa per quello ma sono sostanzialmente errate quindi la fisica ci sta spingendo a fare un salto di avanti concettuale per questo che è interessante non tanto perché ci dice qualcosa su una stella lontana ci spinge a pensare in modo nuovo faccio senza dilungarmi anche il tempo è molto più intricato di quanto di quanto si pensava perché cito una frase di Rovelli famoso fisico Rovelli che si è occupato molto di questo allora lui dice la differenza tra passato e futuro fra causa e effetto fra memoria e speranza fra rimorso e intenzione nelle leggi elementari che descrivono nel meccanismo nel mondo non c'è cioè queste non sono speculazioni ma sono frasi derivate da una analisi scientifica della cosa peggio ancora se vogliamo cioè peggio nel senso come scardine al nostro pensare la nozione di presente si riferisce e ha senso solo per le cose vicine non per quelle lontane c'è un presente contemporaneo ha senso per noi che siamo qui il nostro presente non si estende a tutto l'universo è come una bolla vicina a noi e attenzione il presente dell'universo scientificamente non significa nulla cioè capite che qui noi non ci arriviamo tanto con con la testa cioè noi pensiamo che c'è un certo orologio a un certo istante io posso descrivere l'universo è quello che pensavo nei fisici dell'ottocento questo ma non è una cosa questo scientificamente non è vero certo si può approssimare però capite che il punto di questa nuova fisica per farla abbastanza breve è forse che ci apre un po' la mente cioè ci forza a considerare delle cose che sono fuori dal nostro diciamo buon senso spicciolo non apro il capitolo della meccanica quantistica dovremmo dedicarci delle ore però ecco forse spero di avere un pochino risposto alla domanda se non altro avere messo un po' di curiosità verso questa nuova fisica ecco sì grazie Marco tra l'altro ecco adesso invito anche Silvia del Centro Pace a mettere nei commenti il link a un tuo video in cui queste cose le spieghi in maniera molto dettagliata ma comunque comprensibile anche per noi profani e da quello che hai detto la prima cosa che mi viene in mente è che comunque questa nuova fisica anche solo da questi pochi accenni mette in crisi dei concetti di base su cui noi fondiamo tutta la nostra realtà anche solo tu hai parlato di materia di spazio di tempo e quindi è come se ci dicesse che la realtà in cui viviamo se noi la studiamo a fondo è diversa dal racconto che poi noi ce ne facciamo che poi coincide poi con la nostra esperienza più intuitiva e però noi su questo racconto abbiamo costruito tutte le nostre forme di convivenza civile tutte le nostre società e quindi forse qui vale la pena fermarsi un attimo e vorrei citare una a questo proposito una brevissima frase di Einstein in una lettera famosa del 1950 scritta al direttore di un giornale che aveva perso il figlio prematuramente Einstein afferma scrive questo l'essere umano è parte di quel tutto che chiamiamo universo egli sperimenta se stesso come separato dal resto un tipo di illusione ottica della coscienza quindi praticamente anche riprendendo quello che tu dicevi prima spazio tempo materia ecco l'idea stessa della separazione Einstein dice sperimentarsi come separati è un'illusione ottica non è vero in realtà in questo momento comunque sia siamo separati io sono a Forlì tu sei a Roma Raffaele comunque è sempre a Forlì ma a qualche chilometro da me la separazione è reale però già così intuitivamente possiamo anche pensare che però siamo anche legati in questo momento siamo legati per esempio dal linguaggio ci stiamo capendo quindi se noi proseguiamo con questo filo di pensiero potremmo quasi dire che la fisica con il suo linguaggio forse ti sta dicendo qualcosa che noi in un certo senso sapevamo già e qui io vorrei fare un collegamento con un libro un libro un po' particolare uscito negli anni 70 che è stato scritto da un fisico stiamo parlando appunto di fisica quindi questo è un fisico che si chiama Frithiof Capra il libro è il Tao della fisica allora questo fisico fa un accostamento che già dal titolo capiamo è molto ardito il Tao quindi un simbolo spirituale antichissimo accostato ad elementi scientifici nuovissimi quindi ecco io vorrei per proseguire il discorso che tu potessi dirsi qualcosa su questo libro visto che tu lo conosci bene proprio per capire se in realtà come già anticipavi prima questa nuova fisica ci sta portando in delle direzioni che da una parte sembrano quasi impossibili ma dall'altra forse sono già state colte in modo particolare in questo caso dalle antiche tradizioni spirituali della terra ecco quindi se puoi dirsi qualcosa sempre domande facili facili il libro è un libro che è molto coraggioscito nel 75 è un libro molto coraggioso è così coraggioso che ce ne ha voluto tanto perché fosse recepito diciamo a livello abbastanza abbastanza basso anche se è scritto in maniera molto rigorosa molto è un librone anche di non facilissima lettura niente a che vedere con il new age o cose un po' così diciamo leggere consideriamo che è uscito nel 75 viene tradotto in italiano nell'82 da Delphi quindi dopo diversi anni diventa famoso solo dopo la ristampa della fine degli anni 80 89 così per cui è un libro che ha avuto una difficile ricezione almeno nella nostra nel nostro paese perché è un libro veramente coraggioso cioè dove Capra svolge un'analisi delle analogie fra le teorie relativistiche quantistiche della fisica moderna e le impostazioni delle religioni orientali fra cui appunto l'induismo il buddismo il taoismo e anche lo zen ci sono delle argomentazioni che coinvolgono anche la fisica moderna proprio in dettaglio per cui alla fine Capra considera significativo come in realtà attraverso esperienze del tutto differenti cioè l'una la fisica diciamo attraverso un empirismo razionale codificato se vogliamo l'altra la filosofia religiosa orientale attraverso strumenti apparentemente diversi come la meditazione e anche un'esperienza extrasensoriale in certi casi si giunga a una conclusione considerazioni astratte basate chiaramente non sulla matematica ma su principi di analogia concettuale molto molto simili cioè in pratica la visione del mondo che ne deriva accumulerebbe la fisica relativissima quantistica alle filosofie religiose orientali ed è simile e entrambe sono molto diverse dalla visione meccanicistica derivante appunto da Newton se vogliamo dalla vecchia fisica cioè la nuova fisica sembra molto più vicina nei termini proprio di percezione di legame con il tutto di connessione di effetti a lungo termine molto molto più vicina appunto fra alla regione orientale che la vecchia fisica che parla un linguaggio superato del tutto meccanicistico se vogliamo di azione reazione di predominio o cessione che è un linguaggio che purtroppo torna ad attualità ma insomma è un linguaggio meno relazionale potremmo dire in un certo linguaggio è il linguaggio dell'uomo vecchio insomma ma è sorprendente che teorie che sapienze di vecchi di migliaia di anni convergono in maniera in maniera quasi naturale con le acquisizioni della fisica moderna anche per questo insomma ha valore studiare la fisica perché insomma è un punto in cui un altro punto in cui vediamo che c'è una c'è qualcosa che ci dice sull'uomo molto più che molto più che sul sul mondo diciamo oppure si sta permettendo finalmente di scoprire un mondo in termini più relazionali più morbidi di quanto eravamo abituati di quanto era abituato l'uomo dell'ottocento insomma io vorrei citare visto che hai parlato di questo libro un paio di frasi ma ovviamente saltando diciamo tutta la parte anche più matematica le teorie dei campi eccetera e una è interessante perché dice la scienza non ha bisogno del misticismo e il misticismo non ha bisogno della scienza ma l'uomo ha bisogno dell'uno e dell'altro l'esperienza mistica è necessaria per comprendere la natura più profonda delle cose e la scienza è essenziale per la vita moderna ciò che ci serve quindi non è una sintesi ma un'interazione dinamica fa intuizione mistica e analisi scientifica quindi non si cercano sintesi improbabili ma interazioni dinamiche finisco con quest'altra frase io credo dice Capra che la concezione del mondo implicita della fisica moderna sia incompatibile con la nostra attuale società e qui eriamo anche un po' sul politico sociale la quale società non riflette l'armonioso interrelarsi delle cose che osserviamo in natura quindi la nuova fisica è anche un principio di contestazione dell'esistente continuo con Capra per raggiungere un tale stato di equilibrio dinamico sarà necessaria una struttura economica e sociale radicalmente differente una rivoluzione culturale nel vero senso della parola chiudo questo qui si potrebbe allacciare anche un argomento diverso cioè la fisica non è una cosa di cattedratici di libroni introduce un principio di contestazione dello stato attuale della realtà quindi anche quello è una cosa diciamo interessante lo fa in maniera sembra quasi laterale però poi ti porta a pensare in un modo perché non accetti più certe cose come inevitabili sì Marco quindi ci stiamo lentamente avvicinando anche agli argomenti di cui parlava Raffaele all'inizio quindi la fisica non è così lontana poi anche da un discorso pratico e concreto rispetto alla realtà poi magari su questo torniamo alla fine ecco però da quello che hai detto io direi che quindi anche questa così analogia inedita tra fisica e spiritualità ecco diciamo che da lì qui noi vediamo che stiamo entrando in un territorio di frontiera in cui discipline apparentemente diversissime però effettivamente sembrano avvicinarsi ed avere delle consonanze anche impreviste come questa appunto della fisica che il fisico Capra ha comunque analizzato in questo libro e a proposito di queste consonanze impreviste tra discipline diverse proprio pochi giorni fa mi è capitato di leggere la recensione di un libro un libro di uno storico australiano Christopher Clark e il titolo è I tempi del potere ecco perché lo cito perché rientra benissimo in quello che stiamo dicendo questo autore uno storico parlando del tempo scrive il potere genera sempre un'incurvatura del tempo e già qui sembra di sentire un linguaggio non tanto di uno storico ma di un fisico e poi continua bisogna sbarazzarsi da un'ingenuità di fondo l'idea che il tempo sia qualcosa di immediato una sostanza neutra o universale nel cui vuoto si svolge qualcosa chiamato storia ebbene in ogni sistema il potere crea organizza e modella il tempo curvandolo appunto alle proprie esigenze ideologiche quindi qui un'altra consonanza veramente sorprendente cioè uno storico che usa concetti della nuova fisica ecco io direi che proseguendo su questa linea di questo territorio di frontiera fra un'area di discipline noi possiamo come cominciare a vedere qua e là dei semi di una nuova cultura nascente che separa meno quindi meno bellica una cultura che però facciamo molta fatica a catalogare dentro i confini delle discipline classiche basta pensare a quel libro che abbiamo citato prima il Tao della fisica che per tanti anni comunque è stato difficile da accettare da capire ecco questa questa cultura nascente non ben collocabile comunque non è una novità assoluta di questi anni perché la ritroviamo già in grandissime opere del secolo scorso e qui vorrei citare brevemente il filosofo Marco Guzzi che a questo proposito scrive già a lungo il ventesimo secolo tutte le opere davvero innovative hanno trasgredito le ripartizioni storiche delle discipline entro le quali erano nate e così l'opera filosofica che inaugura il novecento è un poema lo Zaratustra di Nietzsche i più grandi fisici in cui veniamo a noi da Einstein a Schrödinger fino a Heisenberg o a Bohr ci offrono visioni della realtà che sconfinano in esperienze mistiche mentre mistici come Teilhard de Chardin che tu fra l'altro Marco conosci bene inseriscono le prospettive della scienza più avanzata dentro le loro visioni escatologiche e ancora e qui entriamo ancora di più nel tema politici rivoluzionari come Gandhi coniugano le prassi più efficaci di liberazione dei popoli con la mistica della non violenza e del digiuno quindi queste differenze queste ripartizioni semplicemente non funzionano più in quanto le opere creative che abbiamo citato coniugano altra parola chiave coniugare coniugano indissolubilmente e in modo nuovo questi ambiti un tempo ben separati quindi sta nascendo una cultura nuova meno bellica ecco cosa ci puoi dire tu Marco di queste contaminazioni feconde fra discipline diverse in particolare in relazione al tuo campo di ricerca quindi alla scienza e qui ecco se ci vuoi dire qualcosa proprio di questo progetto altra scienza che è nato all'interno del movimento Darsi Pace Sì sì grazie contiamo le domande semplici ma non ci divertiamo effettivamente torniamo un po' anche al discorso che avevamo cominciato per cui la fisica cioè introduce la nuova fisica un principio un po' di contestazione del reale lo introduce in maniera che sembra non politica però poi ci troviamo in ci troviamo in uno scenario di mondo così cambiato che siamo portati veramente a pensare e a operare delle scelte in modo diverso facciamo un caso abbastanza semplice se vogliamo nel modo di pensare della vecchia fisica e della nuova fisica che torna su quello che dicevi tu per molti anni c'è stata la corsa nota un po' a tutti al costituente fondamentale della materia cioè spezziamo la materia fino a che possiamo per capire di cosa è fatto qual è il mattoncino fondamentale da cui tutto poi viene per agglomerazione successiva se vogliamo si ottiene il tutto e questo era visto dagli scienziati ma anche dalla percezione dell'uomo comune come l'andare a vedere i segreti della materia cioè arrivare al nucleo alla cosa fondamentale togliere qualsiasi velo di incomprensione e possedere in qualche modo la realtà già questo verbo possedere è il vecchio paradigma fa capire che ci muoviamo nell'ambito della vecchia fisica e questo possedere la realtà è stato frustrato dagli esperimenti se vogliamo cioè separando a forza le particelle la materia in costituenti sempre più piccoli succede quasi che si quasi una cosa incredibile che si generano sempre nuove particelle sempre diverse e quindi la realtà diciamo risponde con una caratteristica incredibile di varietà di diversità mentre mentre in realtà il costituente fondamentale della realtà non è più una particella ma si scopre che è la relazione esattamente la relazione fra le cose le particelle non c'è un mattoncino fondamentale c'è di scavando sotto tutto quanto c'è che il costituente base è una relazione fra cose fra enti sempre tornando a Rovelli che abbiamo già citato mi piace citarlo perché oltre a essere un grande fisico è un fisico agnostico quindi non ha nessuna tentazione diciamo spiritualeggiante arriva Rovelli a dire che appunto alla base di tutto esiste la relazione quindi questa ha una serie di implicazioni enormi e fa capire il cambio di paradigma non c'è più diciamo un sassino fondamentale ma c'è una connessione fra le cose e che dal punto di vista più rigoroso lo dice sul libro sulla meccanica quantistica un oggetto un ente una particella completamente da solo non ha non ha caratteristiche cioè non ha caratteristiche proprie cioè non ha una massa un colore una densità e non le ha non perché non riusciamo a misurarle non le ha ontologicamente non le ha concettualmente cioè la teoria matematica è tale che depriva di caratteristiche un oggetto che sia totalmente isolato quindi le qualità di un oggetto di una particella di qualcosa vengono da un'interazione con altri oggetti altrimenti non è che sta da sole non si vede altrimenti queste qualità scompaiono dalla teoria queste qualità scompaiono quindi capite quanto questo ci introduce potentemente a un modo nuovo di comprendere la realtà a tutti i livelli insomma se non mi pongo in relazione con qualche cosa in qualche modo se vogliamo una se facciamo un salto un po' forse in debito ma io scompaio se non sono in relazione io le mie qualità le maturo dalla relazione con qualcosa diverso da me altrimenti le mie qualità non sussistono e si capisce che c'è un principio un principio nuovo di contestazione e di rivoluzione su tutto quanto l'assetto su tutto quanto non tanto il mondo ma il nostro modo di pensare il mondo e questo sì per tornare alla parte della tua domanda in Alta Scienza che appunto questo gruppo di un po' di studio e di lavoro su questa su questa transizione di pensiero proviamo un pochino a lavorarci a lavorarci fra di noi abituarci a questo nuovo paradigma a rilanciare occasioni di contatto di dialogo con persone che sono sensibili su questo abbiamo il blog Alta Scienza ormai più di 74 articoli caricati circa 27.000 volte abbiamo una pagina Facebook che è seguita da più di 2.000 persone abbiamo soprattutto un po' di alcune collaborazioni stabili appunto perché abbiamo detto che stanno da soli si scompare quindi collaborazioni stabili con realtà affermate come il DISF che è la documentazione interdisciplinare di scienza e fede che è una realtà molto forte e l'associazione Terra de Chardin appunto che tu hai citato con cui abbiamo degli interventi dei cicli di lettura abbiamo fatto delle interviste con persone nel crucevia fra fede e cultura come Giulio Albarello abbiamo avuto l'occasione di intervistare Marco Guzzi sulla scienza in un dialogo che penso sia stato molto interessante e continuiamo un pochino su questa serie di colloqui interdisciplinari con con filosofi con teologi insomma cercando di veicolare questa idea della scienza più ampia e soprattutto in relazione ecco quindi stiamo vedendo che questi collegamenti tra fisica e altre discipline adesso capiremo stiamo capendo anche con la pace sono molto più profondi di quello che magari può sembrare a prima vista e quindi io direi andiamo un attimo verso la conclusione di questa chiacchierata io direi questo così un attimo anche per riassumere quello che abbiamo detto finora il rapporto tra la fisica e la pace noi prima di tutto lo possiamo leggere come un impegno civile e politico per usare la scienza per fini non bellici e questo da Einstein in poi è stato ed è ancora evidente poi c'è anche qualcosa di più profondo cioè c'è proprio una necessità implicita come tu ci spiegavi Marco proprio nel metodo di lavoro della ricerca scientifica che presuppone come fondamento indispensabile il fatto di lavorare assieme quindi in gruppi sempre più ampi e al di là ecco ovviamente di differenze geografiche politiche che entrano necessariamente fortunatamente in secondo piano però e questo è il punto che spero sia emerso da questa nostra conversazione il punto di cui si parla meno rispetto a questo rapporto fisica e pace è che proprio l'oggetto che la fisica studia quindi la realtà quando noi l'andiamo a indagare a fondo con il metodo scientifico ci dice qualcosa di sorprendente e cioè io le direi così che noi non siamo delle figurine catapultate dentro uno spazio tempo già dato fisso e rigido dentro cui cerchiamo di sopravvivere magari facendoci un po' la guerra l'un con l'altro per avere un po' più di spazio invece noi e tutto quello che ci circonda siamo qualcosa di aperto tu dicevi prima il mattone fondamentale della realtà in fondo non è qualcosa di statico ma è la relazione la relazione che è il contrario della contrapposizione il contrario della guerra in fondo e noi in tutto questo invece continuiamo purtroppo ancora a farci la guerra e quella militare io direi è solo quella più evidente più drammaticamente violenta ma quante forme di guerra ci sono al di sotto a partire da anche dalle guerre che abbiamo dentro di noi ecco io direi a questo punto ecco concluderei così con due brevi citazioni che poi lascio a te Marco di raccogliere e di integrare e la prima è proprio quella frase di Friedhoff Capra che tu hai citato prima un fisico che fa questa analogia importante fra la ricerca scientifica la ricerca della nuova fisica e antiche intuizioni spirituali antiche esperienze spirituali e in più conclude con una provocazione apertamente politica quindi qui le contaminazioni tra discipline ci sono tutte vorrei rileggerla proprio perché adesso forse la possiamo capire ancora meglio scrive Capra io credo che la concezione del mondo implicita nella fisica moderna sia incompatibile con la nostra attuale società la quale non riflette l'armonioso interrelarsi delle cose che osserviamo in natura quella relazione fondamentale fondamento di tutto di cui ci parlavi prima per raggiungere un tale stato di equilibrio dinamico sarà necessaria una struttura economica e sociale radicalmente differente una rivoluzione culturale nel vero senso della parola quindi questa la prima provocazione diciamo politica in senso lato e la seconda invece è una provocazione più interiore e personale e qui cito una brevissima frase che tu Marco conosci benissimo perché la metti sempre sotto la tua firma è una frase di un padre della chiesa Gregorio di Nissa e la frase è questa solo lo stupore conosce quindi proviamo a mettere assieme questa provocazione politica e spirituale interiore allo stesso tempo e quindi lascerei partendo da qui a te la conclusione di questo incontro grazie sì grazie sì sì effettivamente rileggere la frase in questo momento ci fa ancora capire meglio insomma anche lo spessore politico del del senso politico dello studiare la fisica e l'astrofisica altrimenti se non ci fosse senso politico insomma ci potremmo fare qualche domanda la provocazione politica è quella che in fondo si basa sul fatto che a ogni modello di uomo di società corrisponde una cosmologia praticamente cioè ogni modello di uomo di rapporto fra gli uomini crea un cosmo diverso per esempio i fisici della fine dell'ottocento dicevano basterebbe sapere la posizione delle particelle del cosmo in un momento e avremmo capito l'evolversi completo di tutto altri dicevano siamo a un passo dal comprendere tutto il cosmo ebbene questa comprensione era una comprensione in qualche modo possiamo dire aggressiva forse in un certo modo di slanciarsi verso l'esterno di non entrare in relazione con il cosmo non assorbire e risuonare col cosmo ma in una sorta di ibris della ragione lanciare la ragione al di fuori per comprendere nel senso di prendere le cose capire come sono per dominarle è chiaro che questo modello va in crisi con le guerre mondiali se vogliamo con l'idea che non c'è uno sviluppo sostenibile illimitato che non posso espandere i miei desideri incontrollati in maniera conflittuale quindi il mondo che ne viene fuori anche fisicamente e politicamente è un mondo in cui la fisica è diversa la nuova fisica si è rigenerata da questi passaggi dolorosi se facciamo caso cosa ci dice adesso la nuova cosmologia ci dice guardate che noi conosciamo un 4% della massa energia dell'universo il resto è materia oscura ed energia oscura quindi sostanzialmente vedete come ci ha provocato e ci ha ribaltato il punto di vista cioè adesso noi sappiamo che conosciamo il 4% di ciò che esiste non lo conosciamo neanche tutto cioè in questo 4% ci sono stelle i pianeti il tavolo i nostri capelli le cose da mangiare il 96% non sappiamo adesso non sappiamo cos'è cioè il messaggio è di è un messaggio di umiltà nel senso che non è disperante perché noi possiamo indagare questo 96% lo stiamo indagando faremo stiamo facendo dei passi avanti però è un messaggio di umiltà cioè è come se l'universo ci dicesse ragazzi guardate voi non avete cioè state con le piume basse perché qui il 96% delle cose lo dovete ancora capire insomma cioè non è che potete essere i dominatori del cosmo non sta dal centro del cosmo la terra sta non c'è tutto gira intorno al sole ma il sole sta in periferia di una galassia che sta in periferia di un sistema di galassie cioè i messaggi che ci arrivano a ogni livello sono messaggi che invitano all'umiltà costruttiva secondo me questo è detto molto bene da una frase di Thomas Berry che prendo da un libro che si chiama Il Tao della Liberazione fra l'altro con prefazione di Capra quindi è un po' tutto collegato di Leonardo Boff e Mark Cataway la citazione è di Thomas Berry e dice non ci mancano certo le forze dinamiche per costruire il futuro viviamo immersi in uno sconfinato oceano di energia ma questa energia in definitiva è nostra non per dominio ma per invocazione questa energia è nostra non per dominio ma per invocazione cioè qui cambia veramente tutta la prospettiva con cui ci affacciamo all'universo quindi arriviamo alla frase di Gregorio Di Nissa che mi piace molto in realtà la frase intera era i concetti creano gli idoli solo lo stupore conosce cioè la ragione concettuale crea dei mostri in certo senso insomma l'Ibris della ragione crea dei mostri lo stupore quindi l'osservazione l'atto di umiltà di osservare in fondo Galileo è stato rivoluzionato perché ha smesso di reggere Aristotele la fisica di Aristotele e ha avuto l'umiltà di provare cosa succedeva se faceva cadere un sasso per terra ora Aristotele è un grandissimo però insomma per capire il metodo da un atto di umiltà diciamo parte del metodo scientifico e con altri atti forzati di umiltà cioè se noi non ci pensiamo l'universo ce lo fa capire prosegue il metodo scientifico in maniera in maniera feconda altrimenti non va avanti e forse questo è l'importante della fisica che ci costringe se noi la vogliamo prendere sul serio a un atto di umiltà conoscitiva a un atto di umiltà e di relazione a più bassa scala insomma questo è una palestra formativa diciamo grazie Marco io credo che così sei riuscito a mettere qualche tassello per avvicinare la scienza e la fisica a un discorso sulla pace che necessariamente dovrà essere sempre più ampio certo e noi speriamo che vada sempre di più verso questa dentro questo territorio di frontiera in cui anche le varie forme delle nostre conoscenze si avvicinano con questo desiderio di umiltà e di stare assieme per costruire un mondo più vivibile ecco io concluderei qui lascio la parola a Raffaele per i saluti finali grazie beh tanto grazie a voi volevo sapere da Silvia se sono arrivate magari osservazioni o altro e devo dire che devo digerire non fisicamente ma mentalmente quello che è stato detto perché perché già per esempio a partire dal fatto che la materia condiziona lo spazio e quindi quando io appoggio una cosa da una parte quello spazio che io credevo come dire immobile o di contorno si modifica e tutto si sposta fra virgolette non so se lo dico in termini buoni a me ha sconvolto un po' certo in maniera minuscola però fisicamente succede sì questo per me è una cosa personalmente totalmente nuova come eppure come dire i fisici ci sono arrivati non da oggi quindi sono io che sono ignorante e come sono ignorante sul fatto che ero rimasto all'idea del mattoncino e invece è tutta una relazione e questo questo dovrebbe forse non sono però solo io ignorante mi vorrei consolare così nel senso che mi sembra che su questo concetto di relazione ci sarebbe tanto da fare anche in termini proprio di costruzione della pace di nuova consapevolezza dell'umanità senza volere strafare esagerare con le frasi storiche però insomma mi sembra un bel pezzo questo e dall'altra parte mi piace che Marco io mi sono permesso subito di darti del tutto ci conosciamo ho anche sbagliato il nome che ho detto Castellari invece di Castellari quindi mi scuserai per questo però questa è una cosa secondo me molto bella dall'altro mi dicevo ma porca miseria Capra che io ho conosciuto più avanti per un'altra cosa scrive questo libro nel 75 quindi sono 47 anni che ha introdotto questa nuova riflessione e siamo ancora qui ad affannarci è veramente difficile questo cammino di comprensione io vorrei chiedere a te e con questo chiudiamo e ringrazio tutti ringrazio le persone che hanno partecipato che ci hanno sentito finora se dobbiamo aspettare tempi così lunghi o se questi sono i tempi come dire della fisica per cui per noi sono lunghi ma in realtà sono i tempi dovuti questa grazie intanto grazie non è assolutamente la tua ignoranza ma l'ignoranza è anche nostra perché la difficoltà di un cambio di paradigma mentale che anche per noi fisici è veramente difficile tu hai fatto il paragone al libro di Capra ed è giusto ma se pensiamo ancora che per esempio la teoria di Einstein quella che appunto fa in modo che quando tu appoggi un bicchiere si sposta allo spazio ha da poco compiuto un secolo un secolo fa queste cose sono state dette fa capire quanto noi ma noi tutti siamo lenti nel diciamo la fisica la scienza si sopravanza perché poi le strutture cerebrali sono lente il pensiero nuovo è lento a prendere facciamo fatica a ingerirlo diceva Gabbert se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione finché resta un'idea e un'astrazione appena noi secondo me facciamo fatica ma noi tutti scienziati compresi che poi nella vita quotidiana pensano nel vecchio modo facciamo fatica a fare nostro questo nuovo paradigma qui forse non so dire quanto ci vuole forse l'essenziale è non smettere di lavorarci cioè di lavorare con questa materia con queste idee nuove lavorare cercando di incarnare per come possiamo fallendo mille volte cercare di incarnare piano piano la portata di questi concetti certo che diciamo se uno poi li lascia lì non ci lavora sarà più lungo il percorso Marco Guzzi parla di un cambio di epoche che uno può subire se rimane attaccato all'uomo vecchio e quindi lo prende controvento praticamente e quindi sente tutto il dolore o cercare di assecondare l'onda ma vuol dire come fate voi come fa un centro per la pace come fa una prospettiva spirituale cercare di sintonizzarsi su queste onde nuove insomma alla fine queste onde nuove sono proposte che ci arrivano da vari livelli da un saggio orientale da un fisico da altri da un centro per la pace e che credo che ci sta a noi alla nostra libertà a secondarle o rimanere ancorati all'uomo vecchio se uno rimane ancorato soffrirà sempre di più in qualche modo se cerca di lasciare andare e seguire questo flusso piano piano non so dire quando e come sarebbe bello saperlo ma magari aiuterà un pochino la transizione che tutti noi stiamo cercando a tutti i livelli perfetto ti ringrazio ringrazio anche perché mi veniva l'analogia anche col tema della non violenza che anche quello è un tema che ha di fatto solo un secolo perché Gandhi che è il primo che le ha teorizzate in maniera diciamo da manuale da costruttore di una di un percorso e non solo di un'azione fatta perché non c'era altro da fare anche lui e da lì sono partite altre ricerche di fatto è dei primi del novecento perché le sue sperimentazioni cominciano in Sudafrica e finiscono in India sì sì ma poi siamo quindi siamo giovani siamo ancora giovani quindi possiamo sperare io un po' mi ero mi ero preoccupato e soprattutto gli avvenimenti di oggi anche di questa quotidianità che non è solo la Russia e l'Ucraina pesano però ecco questo mi dà speranza che si possa lavorare che il nostro impegno possa essere fruttifero magari noi non vedremo i frutti però qualcuno forse saprà cogliere di meglio di noi io con questa frase mitica chiudo la nostra diretta facebook ringrazio di nuovo Marco Castellani per queste pillole di filosofia di astrofisica e anche di saggezza che ci sono date che io io personalmente devo ancora digerire ringrazio Antonietta per aver posto delle domande di una qualità elevata credo molto molto importante ringrazio Silva perché ha reso possibile questa diretta e ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino ad ora per la pazienza di aver seguito questo percorso e speriamo di poterci incontrare in altre occasioni e lavorare insieme per una maggior consapevolezza di tutti noi insieme grazie ancora a tutti e andiamo a chiudere quindi la la diretta grazie a tutti